Però io ci vorrebbe mettere pure quelli che adesso purtroppo non c'è stato più tipo Alessandro Fini che è il figlio di mia cugina tipo Giordano Massimo tipo Baffiore che è il mio cugino e tanti altri da Roma, mi madre tanti che fa a Roma la vedeva, mi dispiace per te ma c'è stato pure uno ma pure di tua perché per l'altra parte siamo tutti inizia di scude siamo a Peccio allora, anche se lontano io rimango romano America, Africa, Australia noi non cambiamo mai maglia pure se arriva da lontano il nostro tipo grande è sempre più forte veloce e roboano e io che sto a Roma e trasporto un padre che pervieni penso e spero che prima o poi a Roma rivieni perché tutti ce lo sanno ed è risaputo che se non ritorni ce pensi e ancora gli mandi il saluto e io che da sta grande città divento un bambino e mi metto a svegliare e fino a che non mi vede il fungolone sono sempre incazzato e il bambino ora non scherziamo mamma mia, le faccio un appello a chi sta lontano da te fagli il letto di cappello e quando sta gente diventa nostalgica sfilate più forte il nome della nostra squadra magica se ci penso quando in catalessi e qualche volta in Roma sfilterò sempre più forte per voi a squarciacula forza e adorando a chi nè 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 bravo